Amici di Onda Libera TV, siamo a casa del dottor Roberto Cirocco. Roberto Cirocco era un dirigente generale della Regionaria Generale dello Stato e ha collaborato strettamente con i politici, i massimi vertici politici dell'epoca. Adesso do la parola a Roberto Cirocco perché nel frattempo è andato a riposo e si è dedicato alla scrittura. Ci presenta un libro, Africa perduta, molto interessante perché ha dei risvolti storici che chiariscono molti degli sviluppi politici e storici che ci portano fino ai giorni nostri e in più perché è un testimone diretto di come si è svolta la politica internazionale italiana nel periodo in cui lui ha collaborato con questi politici. Politici del rango di Forlani, Andreotti, Stammati, Moro, Colombo. Colombo, poi ho visto che in un punto hai citato anche Andreotti. Andreotti, certo. No, no, tutti conosciuti molto personalmente. Quindi do la parola a Roberto Cirocco che adesso ci illustrerà la sua nuova attività. Il libro è la mia attività trascorsa di carattere pubblico. È un po' pesante, tutti mi hanno detto che era… però ho cercato di dire il più possibile. Questa è esperienza vera, diretta, vissuta e che è molto importante perché noi abbiamo perso, e qui è la prima cosa da dire, noi abbiamo perso esattamente la cognizione dei nostri interessi. L'Africa era l'interesse primordiale dell'Italia, prima che della Spagna, della Francia, eccetera. Noi eravamo i più interessati anche perché i nostri rapporti con questa gente erano molto migliori di quelli intrattenuti dagli altri perché noi non abbiamo fatto del neocolonialismo, abbiamo fatto delle cose terribili al momento del colonialismo per il quale io una volta ad Abidjan veni rimproverato dal vice direttore della banca africana di sviluppo appena sempre che ero italiano. E quello mi disse in una cena, ma voi ci avete gassificato tre volte, non vi vergognate. Ma a parte la parte sud, ma nella parte nord avevamo un grande ascendente. E purtroppo ce lo siamo perso. L'Italia è un paese che tranne i primi tempi con il Lapira e anche sotto certi aspetti Andreotti aveva una politica extra. L'Italia oggi non ha una politica extra, è al carro americano, inglese e francese. Il libro parte con un'analisi storica dell'Africa, dello sviluppo dell'Africa, a partire dall'età più antica, quindi dell'antica Roma. E quindi è spiegato come le popolazioni africane hanno preso strade diverse a seconda anche dei bisogni geografici. Esatto. Perché c'era il deserto del Sahara che ha diviso e ha creato tutte queste cose. E come è messa l'Africa di oggi? L'Africa di oggi purtroppo è messa malissimo perché subito dopo, negli anni 60, si è messo in testa che l'Africa doveva essere sviluppata con la famosa cooperazione allo sviluppo. La cooperazione allo sviluppo è stato un fallimento totale. Gli altri, gli inglesi e soprattutto i francesi, ne hanno approfittato per farci gli affari loro. Noi invece se ne siamo approfittati per riempire le tasche a 3-4 imprese italiane, ma riempire le tasche è miliardi. Qui si parla di migliaia di miliardi, di lire. Adesso siamo odiati per quello che abbiamo fatto, cioè che non abbiamo fatto. L'immigrazione che oggi si distingue in politica, laddove ci stanno conflitti, ed economica, laddove c'è la fame, bene, quella della fame è responsabilità nostra e noi italiani siamo un paese responsabile delle condizioni. Io ho fatto un villaggio in Africa, ho filato un villaggio e qui sta scritto come me l'ho costruito, come me l'hanno tolto, eccetera, eccetera. Ebbene, io ho vissuto per 3-4 anni dentro a queste zone, ogni giorno parlavo con loro e loro parlavano con me. Non c'era una distinzione di religione, sapevano che ero cristiano, ma io parlavo con una piena libertà. Ed è gente che capisce, comprende, però a un certo momento ci caricano di responsabilità che noi abbiamo. Acades, per esempio, era il centro dove tuttora si convogliono gli emigranti che poi troviamo in Italia, troviamo sotto casa, da dove partono? Dalla Guinea, eccetera, poi attraversano tutti i paesi del Sahel e poi arrivano ad Acades e lì ci sono i grandi camion che li carico, i vecchi berlier, i vecchi camion tedeschi, quelli a quattro asse, non mi ricordo come si chiamano. A lei li carico così e muoiono alla strada, la metà ne muoiono per la strada. I cadaveri li ho visti io, signore mio, ho visto i cadaveri di questa gente. E noi cosa abbiamo fatto? E sì, facciamo le onlus, le piccole cose, ma quelli sono cucchiaini in un mare in tempesta, un cucchiaino d'acqua in un mare in tempesta, non serve a niente. Secondo te il fenomeno ISIS da cosa nasce? È un fenomeno macchiavellico messo in piedi dall'Occidente o effettivamente è un fenomeno nato nel mondo musulmano di reazione? Ma nemmeno per sogno, non è. È un fenomeno messo in piedi ad arte. Ad arte. Perché? Ma guarda caso, dove c'è il petrolio, dove ci sono i minerali strategici, succedono i casini. E come mai che succedono i casini dove ci sono i minerali strategici? Boko Haram. Sono tre quattrocento delinquenti, armatissimi. Capito? Hanno anche, se so, tutti questi agici che quindi individuano appena perché lì hanno fatto una coalizione di tre, quattro stati, no? Hanno messo del Niger, il Costa d'Avorio, Burkina Faso, hanno messo insieme due o trecento uomini militari e naturalmente però questi li controllano perché hanno dei mezzi. Chi glieli dà i mezzi a questi qua? Chi gli dà questi fucili, questi mitragliatori ultima generazione? Ma chi gliela dà a Boko Haram? E dice allora anche l'altro giorno, quando è stato due giorni, tre giorni fa, hanno preso, hanno entrato in un villaggio, hanno ammazzato duecento, centocinquanta persone. Ma insomma, ma chi gli dà? E insomma, mi venite a raccontare, l'Isis, ma chi la, ma i quelli che comandano l'Isis, ma non sono tutti reduci dai campi di concentramento americani in Iraq? Lo sanno tutti. L'Arabia Saudita che ha rifornito, noi siamo, noi italiani, siamo uno dei maggiori fornitori di armi all'Arabia Saudita. E l'Arabia Saudita chi è? È il braccio armato dell'America nel Medio Oriente. Facciamo una domanda, diciamo, di livello più basso, diciamo così. Ai tuoi tempi si sono mai verificati liti per Rolex? No, sì, adesso ti racconto un fatto molto carino. Allora, noi eravamo in missione, e qui è descritto nel libro. Eravamo in missione come comitato FED, che era il comitato che andava a rispezionare i soldi che davamo in Africa. Andiamo in Madagascar e lì c'era il presidente di Madagascar, Selinana si chiamava, che era il vecchio presidente che scappò fuori dalla indipendenza. Ebbè che è successo? Che Selinana aveva, io ho visto dietro di lui che c'era un quadretto con tanti orologi. Allora fece i complimenti a Selinana. Ah, monsieur le president, vous avez des montres incroyables? E lui mi ha detto, aspetta, mi ha detto, attendez, attendez. Apri un cassetto e tiro fuori tutte queste gemme preziosi di cui il Madagascar è pieno. E ne mese lì sul tavolo. E allora noi tutti a guardare queste pietre preziosi, topazzi, eccetera, eccetera. Allora dice, beh, lui le disse, queste cose aspettano però la signora presente, che era una delegata tedesca, no? Una delegata tedesca. Allora gli prese e gli ha messo in un piattino e gli richiede. Quando siamo scesi di sotto, allora il delegato francese tedesco dice a quella, allora dammeli perché io sono del Ministero delle Finanze, bisogna andarla a depositare. Dice, no, io non deposito niente perché me l'ha data a me e quindi è roba mia. Quindi grande cagnara di sotto, nella hall del palazzo presidenziale, fra i due delegati. Quello tedesco delle Finanze che aveva il malloppo con tutti i sti affari e quelli invece che non glieli voleva dare. Tedeschi tutti e due. Ecco, tedeschi tutti e due. E questo è quello che è successo con i Rolex, capito? Però i Rolex non si sa dove siano finiti. Esatto. Parliamo un po' del libro. Il libro, oltre alla parte praticamente storica di cui accennavamo prima, è un resoconto, diciamo ben documentato, che puntualizza tutte le tue missioni fatte all'estero e in Africa nel tuo lunghissimo periodo di lavoro. Sì, signor. Ecco, c'è una parte che riguarda Gheddafi. Sì. Ci vuoi parlare, ci vuoi spiegare bene questa storia di Gheddafi? Dunque, io gestivo un villaggio turistico da Gheddafi. Il villaggio ho messo su da chi? Da me. Dall'Italia? Io, io. No, Italia, Italia. Io ho messo praticamente la bandiera italiana, ma praticamente ero io. In Italia c'era la bandiera italiana, la bandiera dei Niger e la bandiera dalle comunità europee. Punto e basta. Le tre bandiere che stavano... Parliamo del periodo in cui lavoravi nel privato? Lavoravo nel privato e mi ero messo proprio per conto mio. Sì, sì. Allora, che cosa è successo? Che Gheddafi faceva parecchi giri in Africa, no? Una volta ogni due o tre mesi veniva in Niger e veniva con 30 giornalisti al seguito. Ora, questi giornalisti mi hanno raccontato tutto. Qui si è scritto tutto in questo libro, tutta la conversazione che c'è stata. Quindi, certe cose che poi in Italia si sono sapute 20-30 anni dopo, io le avevo già appreso. Gheddafi vuole costruire un'autostrada da Tripoli al lago Chad, perché così lui può portare tutto il sud al nord. Vi ricordiamo il libro scritto da Roberto Cirocco, Africa perduta. Allora, Roberto, da chi è pubblicato questo libro e dove può essere acquistato? Dunque, il libro non è pubblicato da nessuno. Io me lo sono fatto, me lo sono cucinato, me lo sono imbastito, me lo sono stampato, praticamente, e poi ne ho dato alcune copie, se qualcuno se le vuole comprare, da Francesco, il libro, il negozio che sta sotto i portici qui per Fano. A Fano, per il corso. Per il corso. Salutiamo Roberto Cirocco che ci ha ospitati a casa sua e un saluto a tutti. Grazie.